ciao a tutti amici del capricorno benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami capricorno tendenza energetiche generali per la seconda parte di maggio 2023 abbiamo la carta dell'imperatrice amici del capricorno periodo di abbondanza di prosperità anche di fertilità per qualcuno perché l'imperatrice parla sempre di gravidanza o di gestazione anche più semplicemente di un progetto magari è una carta comunque di forte abbondanza di tipo materiale quindi anche abbondanza economica in certi casi fa anche riferimento alla madre ma andiamo a vedere nel caso specifico con i teri i tarocchi di che cosa si tratta intanto come sempre ragazzi vi ricordo che le letture sono generali sono per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto prendete quello che vi serve lasciate andare il resto all'universo e se per caso non risuona se nulla potete sempre ascoltare l'ascendente il segno lunare o venere nella descrizione sotto nel video trovate il link ad un video che è una guida che vi spiega proprio come unire significati di più oroscopi trovate il link a un video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi bene ragazzi cominciamo con un quattro di denari un dieci di bastoni un dieci di denari un due di bastoni un due di coppe la carta della giustizia wow e il fante di coppa al contrario devo dire che partendo con questo 4 di denari c'è una certa situazione di mi verrebbe proprio da dire chiusura perché se ci fate caso la figura proprio rannicchiata e anche sotto le ali di questa aquila come quasi se fosse in una tenda in una grotta come se avesse quasi paura in questo mazzo e c'è poi un dieci di bastoni che è una carta che mi dice che ci sono troppi pesi che dovete sopportare probabilmente la terza settimana di maggio vedrà qualche responsabilità aggiuntiva rispetto al solito e per certi versi sento che avreste bisogno di un po più di collaborazione magari da parte di chi vi sta intorno potrebbe essere in un ambiente lavorativo ma anche in un ambiente familiare se fosse in un ambiente familiare la l'imperatrice potrebbe riguardare il ruolo che voi avete all'interno di questa famiglia che potrebbe essere molto simile al ruolo di una madre anche se non avete figli però madre nel senso di colei che accudisce gli altri diversamente potrebbe essere per esempio un capo c'è anche poi questo 2 di bastoni mi parla di una certa indecisione per qualcuno si tratta di non riuscire a contemplare quelle che potrebbero essere le alternative terminiamo poi con un 2 di coppa al contrario della giustizia infante di coppe scusate infatti di denari ma questo poi lo vedremo dopo direttamente con i mini tarotti adesso ripartiamo con il 4 di denari andiamo a spiegarlo un po meglio abbiamo un asso di bastoni al contrario è un re di spade o come la sensazione che siate un po schiacciati o perlomeno così vi sentite diciamo tra la seconda e la terza settimana di marzo all'interno di questo gruppo di questa famiglia o semplicemente in relazione a questa persona perché qui abbiamo un re di spade lì c'è l'imperatrice potrebbe essere un capo ripeto o un padre un un tutore un genitore e come se non vi sentiste liberi di muovervi di conseguenza e come se cercaste di mantenere un profilo basso per non essere disturbati perché vi lasciano stare perché comunque siete già in una fase di stanchezza estrema con questo 10 di bastoni andiamo a vedere di che cosa parla il 10 di bastoni 3 di coppe 4 di bastoni e di nuovo imperatrice ragazzi ho come la sensazione che qualcuno qui abbia fatto lavorare voi o comunque stia brindando i vostri successi come se fossero i propri cioè sapete quei titolari che fanno fare tutti i dipendenti e poi è ma è l'azienda che ha ottenuto il risultato dipendente non c'entra niente è come se non ci fosse un reale riconoscimento di quello che avete fatto perché perché il 4 di bastoni è al contrario come se non ci fosse un accordo reale un compromesso scritto firmato un contratto andiamo a vedere 10 di denari perché anche 10 di denari parla di contratti e quindi ho come la sensazione che qualcuno qui abbia voglia di essere riconosciuto o di avere qualche tutela in più in questo senso matto al contrario e e 4 di coppe è sì non vi fidate molto dell'altra persona ragazzi o non vi fidate della situazione perché magari potrebbe essere un tipo di lavoro un po rischioso e quindi non sapendo bene come va il mercato volete giustamente avere qualche tutela in più è come se aveste questo obiettivo in testa ma nel profondo sentite come se fosse quasi irraggiungibile con i presupposti che ci sono nella prima parte di della lettura quindi nella terza settimana di maggio perché qui avete una carta di sfiducia è una carta che vi dice che non state vedendo quello che è una possibilità che potrebbe essere proprio lì di fianco a voi è come se guardasse troppo in alto invece guardando proprio dritto davanti a voi aveste la possibilità di vedere questa opzione andiamo a vedere il 2 di bastoni cavaliere di coppe e massimo infatti cavaliere di coppe abbiamo due di pentacoli e un fante di di bastoni e come se ripeto se fosse il caso di chi accennavo prima dove magari lo sforzo l'avete fatto voi e qualcun altro si prende i meriti ecco ho come la sensazione che qui sarebbe necessario mettere le carte tutto scritto nero su bianco fare un accordo fare quello che con i quattro di bastoni ancora non c'è perché qui è come se voleste che l'altra persona l'altra parte insomma faccia anche il suo lavoro ma bisogna comunque o ce n'era un'altra sotto regina di spade bisogna comunque stavo dicendo con questo 2 di pentacoli che ognuno si prenda le proprie responsabilità non può essere sempre tutto a carico vostro è perché non c'è un programma con questa regina di spade è come se continuasse ad andare a destra e sinistra cercare di capire che cosa si può fare per migliorare vedete che dall'altra parte non arriva magari lo sforzo necessario lo sforzo che voi vi aspettate e qui si tratta veramente di tirare un attimo il freno a mano e di dire ok facciamo un programma quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere il 10 di pentacoli ipotesi quindi che cosa devo fare io per raggiungere l'obiettivo e da lì si lavora però andiamo a vedere questo 2 di coppe al contrario 9 di bastoni re di bastoni e 5 di coppe è di nuovo il 4 di bastoni che una carta di accordi al contrario il 2 di coppe che una carta di compromessi al contrario come se non riusciste a mettere in quadro le cose come se voi aveste un'idea di equilibrio di collaborazione all'interno di questa relazione di questa situazione ma non è così che la vivono anche gli altri vi sento un po in una fase di attesa di aspettativa letteralmente dove vi aspettate che qualcun altro faccia primo passo però anche qui con questo 2 di coppe come se non vi trovate come se non fosse sulla stessa lunghezza d'onda ragazzi ma arriva la giustizia la giustizia una carta che rimette in equilibrio potrebbe essere la giustizia divina o potrebbe far riferimento a questo famoso contratto che qui ancora non vediamo andiamo a vedere di che cosa parla la giustizia abbiamo un 10 di bastoni che avevamo già qui un 10 di denari che avevamo qui un 4 di pentacoli che avevamo qui e il carro cioè pazzesco le prime tre carte tutto quello che succederà nella terza settimana di maggio ragazzi verrà regolarizzata nell'ultima settimana di maggio direi anche quasi negli ultimi giorni però è impressionante come si sono ripetute le energie e vi dirò qualche cosa verrà lasciato indietro per favorire il contratto l'unione la stabilità l'abbondanza sono due carte la giustizia e il 10 di denari che parlano anche di eredità quindi per qualcuno potrebbe essere una questione di soldi non lo sento in realtà per molti è però potrebbe essere una questione economica però ragazzi guardate che arriverà la giustizia dare una direzione alle cose andiamo a vedere il fante di denari 5 di bastoni i tre di bastoni è come se vi invitassero ad andare un po oltre a sperimentare ad avventurarvi a oltrepassare il confine mi viene quasi da dire oltrepassare i vostri limiti lasciate stare quello che dice la gente quando qualcuno vi dice ma tu non l'hai mai fatto e ma non sei capace ma figurati se ci riesci non date retta agli altri solo voi potete sperimentare se in effetti riusciti in una cosa o no e se vi volete mettere per un nuovo percorso vi piace anche solo per il puro piacere personale fatelo anche se è qualche cosa che magari agli altri potrebbe sembrare pazzo ho come la sensazione ragazzi che questa giustizia vi darà l'input per sì iniziare qualche cosa di nuovo per andare oltre per iniziare a vedere un futuro diverso qui avevate il 2 di bastoni e qui avete il 3 di bastoni c'è il passaggio c'è l'andare avanti c'è la fase successiva di questa situazione di questa relazione probabilmente la seconda parte di maggio è una fase fondamentalmente di attesa no come un po il vedere come si muovono come si muovono le acque io sento che comunque la giustizia arriverà o sì o sì se state aspettando qualche risposta da un punto di vista burocratico a fine mese aspettate una risposta positiva perché c'è un 10 di spade che spazza via le vecchie questioni vecchi pesi le vecchie responsabilità e arriva questo 10 di denari che la carta del completamento sia da un punto di vista economico quindi eredità promozioni aumenti di stipendio quello che rappresenta per voi questo compimento anche è una carta anch'essa di contratti come la giustizia e guardate vedendo il carro appunto vi dico che o vi verrà data una nuova destinazione magari proprio sul lavoro grazie a questo momento di stipendio questo cambio di ruolo oppure proprio il fatto che da diciamo fine maggio in avanti le cose si muoveranno in avanti con questo carro come avere più chiaro dove volete andare che i limiti volete superare anche di voi stessi che strada volete intraprendere che vi possa portare a migliorare ad espandervi va bene ragazzi andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere come termina la lettura che altro consiglio che vogliono dare allora carta numero uno e parla degli degli avi parla di tutto quello che è alle nostre spalle di quello che è stato alle nostre spalle e che ci ha dato la possibilità di costruirci così come siamo in questo momento io non sento solo una questione a livello di famiglia di sangue ma è anche una questione di famiglia di anime parla comunque di quello che sono diciamo le persone che ci sono vicine ma che non sono più nel mondo fisico c'è anche un occhio come se fosse un occhio che veglia su di voi e poi abbiamo la carta numero 16 ragazzi e qui parla di controllo di ostacoli e di influenze anche mentali tenete presente che avete la la giustizia e qui c'è una spada rappresentata è proprio come se doveste tagliare indietro certe questioni ok certi pensieri più che tutto perché la telechinesi telecinesi in italiano parla della trasmissione del pensiero ok magari potrebbe essere una di quelle doti che inizierete a sviluppare fatemelo sapere nei commenti io spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie dei prossimi 15 giorni se si potete mettere like potete iscrivervi condividere commentare ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao